Musica Un saluto a tutti dalla redazione di Rossini TV e benvenuti a questo nuovo appuntamento con il Vallefoglia Magazine. Il settimanale di approfondimento della città di Vallefoglia. Prima di iniziare, come sempre, vi ricordo i nostri contatti al quale potete inviare le vostre segnalazioni. Trovate in sovrimpressione il numero WhatsApp oppure la mail di redazione Vallefoglia, chiocciodarossinitv.it. Vi ricordo che potete inviarci messaggi di testo, messaggi audio per quanto riguarda WhatsApp oppure immagini e video. Iniziamo subito con la prima notizia di questo Vallefoglia Magazine, perché alla luce del nuovo DPCM, dove si prevede la chiusura nel weekend per i centri commerciali, anche la zona di Cento Vettrine a Morciola è stata colpita da questo fatto. Noi abbiamo parlato con il titolare del Caffè della Fortuna, Luca Mancini, che ha espresso tutto il suo disappunto su questa situazione. Il Caffè della Fortuna, qua a Cento Vettrine a Morciola, è costretto a chiudere nelle weekend. Nei giorni di sabato e domenica, dopo il nuovo DPCM, la zona qua a Morciola, che viene considerata un centro commerciale, è costretta a rimanere chiusa. Il tutto in una zona che prevede attività commerciali con ingressi separati, ognuno ha il proprio ingresso, c'è chi anche ha la propria uscita, come qua è il caso del Caffè della Fortuna, con il suo titolare, Luca Mancini, molto indignato per la situazione che si è venuta a verificare, ha dovuto disdire anche tantissime prenotazioni per quanto riguarda lo scorso weekend, nella speranza che il prossimo possa restare aperto, se chi si sta muovendo in regione, anche con il sindaco Palmiro-Rucchielli, in una situazione che già era complicata in precedenza, lo ricordiamo, l'apertura alle 5, la chiusura obbligata alle 18 per l'attività di ristorazione, poi anche le weekend chiusi in una giornata in questi due giorni, dove si lavora tantissimo, tutto sempre più complicato. Buonasera a tutti, è stato un fulmine a Celsereno, l'abbiamo scoperto venerdì pomeriggio, ci hanno avvisato che rientrevamo come centro commerciale, noi avevamo già tutti gli eventi in programma, sia sabato che domenica, per noi non abbiamo nemmeno immaginato che noi potevamo essere chiusi, perché questo non è un centro commerciale, avendo un'entrata a parte, un'entrata in uscita, siamo indipendenti, non abbiamo niente a che fare con un centro commerciale, in teoria, quindi è stato preso allo sprovvista. Hai parlato di, avevate qualcosa di pronto, qualcosa anche immagino di novità, visto il periodo per cercare di invogliare la gente a venire comunque in un posto pubblico. Sì, infatti, già con il decreto precedente, con la chiusura del 18, ovviamente si è molto penalizzato un bar, perché il 90% degli operai lavorano tutti fino alle 18, quanto loro staccano io devo chiudere, è un problema, quindi devi sopravvivere per tutta la sede, da lunedì al venerdì, con le colazioni, il massimo che si può fare, ti prepari per il weekend con degli eventi diversi, abbiamo un programma, un aperitivo itinerario, l'abbiamo inventato, dove l'Italia ha 20 regioni, ogni domenica facciamo una tappa su ogni regione a tema, si partiva dalle Marche, su ogni regione si consigliava un bianco, un rosso e un fristantino, con il piatto tipico, partivi dalle Marche, c'era l'oliva scolana e via dicendo, la prossima tappa era in Toscana, bianco, rosso e bollicine della Toscana, con il piatto loro e via dicendo, per tutte e venti le regioni. Proprio all'inaugurazione del giro, al venerdì, è uscito fuori questo nuovo DPCM che ci ha tagliato le gambe. Quando è uscita fuori questa notizia che dovevamo rimanere chiusi, ci siamo subito mobilitati con il sindaco, e consiglieri regionali, la Vitri, Biancani, tutti per cercare di risolvere questo problema. Speriamo di riuscire, perché così la vedo molto molto difficile. Ti chiedo anche, hai parlato di una forma particolare di aperitivo, sappiamo che l'ora dell'aperitivo è quella delle 18. In questo caso a che ora si sarebbe dovuto partire il tutto? Avevamo modificato, alle 11 si erano per il pranzo, visto che ci dovevamo adattare, si adattava all'aperitivo. Però la gente bene o male si adatta facilmente. La volta prima avevamo fatto la festa della Campari, sempre alla mattina alle 11. Bisogna inventarsi questi eventi, ma togliendosi il sabato e la domenica è difficile inventarsi. Non è solamente il caso delle caffè della fortuna a Morciola, ma anche il famoso negozio Hashtag Stefano ha dovuto nello scorso weekend restare chiuso a causa del nuovo DPCM. Anche qui abbiamo parlato con il titolare e anche lui ha espresso il suo grande disappunto in merito. Per quanto riguarda l'emergenza, la gestione dell'emergenza rientra nella routine sociale italiana, quindi i problemi sono quelli un po' di tutti e di tutte le attività commerciali diversamente distinte per tipologia merceologica, eccetera, eccetera. Quindi i problemi normali di tutti. Come mi trovo qui? Un'ottima zona. Montecchio offre tanto a livello economico e ha un tessuto sociale molto, diciamo, fra virgolette ricco, perché troviamo un sacco di imprese, un sacco di attività ricche, diciamo, e quindi che portano, veicolano verso Montecchio, dalle zone limitrofe, delle necessità commerciali e noi le offriamo, insomma. Allora, quello che io chiedo è un'uguaglianza, un'uguaglianza di tutte quelle che sono i centri commerciali della zona, parliamo della zona di Vallefoglia, ma il problema è a livello nazionale. Quindi, secondo me, ci dovrebbe essere più uguaglianza, non può essere una distinzione che a quanto pare, noi siamo venuti a sapere, venerdì sera, essere solo per alcuni centri. Distinti non si è capito, perché nessuno ci ha poi spiegato tecnicamente per bene in che modo sono stati distinti, perché a dire di tutti, anche dei nostri clienti, eccetera, eccetera, della gente di Montecchio, di Vallefoglia in genere, sono dei centri commerciali con caratteristiche identiche. Anzi, tra l'altro, si possono fare delle distinzioni che noi abbiamo meno condominio di altri centri commerciali senza stare a puntare il dito. Quindi, venerdì sera, siamo caduti così nell'interrogativo, aperti, chiusi, aperti, chiusi, abbiamo chiesto alle attività economiche, che ci hanno detto i chiusi, e noi abbiamo chiuso. Risultato? Abbiamo ragazzi in cassa integrazione per tutte le attività della zona e di tutti i centri commerciali. Dei punti interrogativi, perché non si può andare avanti, non si può gestire un'azienda in questo modo, di settimana in settimana, di giorno in giorno. Non si vive alla giornata, non siamo dei disperati che vanno in giro a raccattare. Noi siamo degli imprenditori e vogliamo fare impresa, quindi vogliamo fare degli investimenti, assumiamo del personale. Io ho assunto quattro persone in più solo nell'ultimo periodo per superare il periodo natalizio. in questo modo non si riesce a gestire. Dall'oggi ai dolmani serve una programmazione almeno nel tempo. Non si può vivere e continuare a vivere in questo modo. Io sono veramente un po' perplesso, non ho più voglia. Poi lo hai citato tu, il periodo natalizio, mancano poco più di una quarantina di giorni natale, questo che sarà un Natale molto particolare, forse come mai prima, abbiamo vissuto un periodo dove comunque tanta gente si riversava nel tuo negozio per acquistare delle cose. Stiamo cercando di dare gioia a questo Natale ma con tanta fatica. Un sorriso proprio tirato, molto tirato. Non mi piace, è brutto tutto, brutta la gestione, è già difficile e poi questa cosa qui della divisione anomala parziale delle attività. Io ho girato, erano tutti aperti, un centro commerciale come l'IKEA, cosa mi centra? È aperto e noi chiusi? Noi abbiamo 83 persone che possono entrare in questo negozio, è contingentato, ci sono i plexiglass, ci sono i disinfettanti, è tutto a norma. perché noi no e loro sì. Noi non siamo un centro commerciale, vedete, i miei clienti entrano dentro al mio negozio, non entrano in una galleria o dove ci sono altre attività o passano in luoghi stretti, comuni ad altre attività. Noi siamo noi, questo è un condominio dove l'unica cosa che abbiamo in comune è la pulizia dei parcheggi. Basta, non c'è altro. E a proposito di questa situazione che per le numerose attività comporta anche un'ulteriore perita economica nonostante il periodo in cui stiamo vivendo, il sindaco di Vallefoglia Palmirocchielli assieme alle vicepresidenti del Consiglio regionale Andrea Biancani stanno cercando e si sono attivati per risolvere questa situazione scrivendo all'assessore Carloni anche al presidente Acquaroli per cercare di restare nuovamente aperti nei centri commerciali a Vallefoglia. Ma innanzitutto la vicenda del Covid è così drammatica ancora ahimè qui da noi un po' di meno per fortuna la gente qui sta più attenta mantiene distanze tira la mascherina eccetera quel provvedimento è teso a ridurre gli assembramenti e quello che io ho scritto al presidente del Consiglio del Ministro e al presidente della Giunta regionale perché la materia è dello Stato e delle Regioni è che i nostri quattro centri commerciali classificati tali perché poi Tavuglia Montalabate non hanno centri commerciali Pesola ha centri commerciali chiusi i nostri sono quattro centri commerciali aperti e quindi abbiamo scritto che essendo aperti essendo luoghi in cui non ci sono assembramenti se non come le altre attività commerciali normali se si può intendere che essendo aperti possono rimanere nei weekend sabato e domenica aperti se la razza è quella che bisogna evitare assembramenti noi abbiamo invitato quotidianamente i cittadini a stare il più possibile a casa a recarsi al lavoro a far la spesa le cose indispensabili per il resto evitiamo i contatti il più possibile perché dobbiamo salvare le vite umane che ahimè stanno aumentando i defunti e qui devo dire tutto sommato che la gente è abbastanza attenta anzi con l'occasione anche per ringraziarli però per dirgli che tocca stare sempre più attenti se vogliamo avere tutto aperto per Natale se no credo che noi rischiamo la chiusura tutte le feste che vanno da Natale fino all'Epifania quindi se si vuole evitare questo bisogna mantenere le regole spero che ci sia una risposta speriamo che ci sia una risposta positiva e cioè che possono essere questi centri commerciali richiesti da chi li ha costruiti come centri commerciali possono essere considerati alla stregua delle altre aree commerciali perché sono tutti e quattro aperti quindi spero che la presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione ci possano dare una risposta positiva alla lettera che noi abbiamo inviato proprio questa mattina come Presidente dell'Unione dei Comuni perché le attività commerciali le gestisce l'Unione dei Comuni ci siamo attivati immediatamente appena ci hanno segnalato questo disagio che in realtà è un disagio vero e concreto nel senso che il DPCM prevede la chiusura dei centri commerciali ma quando si parla di un centro commerciale siamo abituati a considerare quegli spazi chiusi cioè dove c'è una galleria e i vari negozi affacciano all'interno di questa galleria in molte situazioni soprattutto nella città di Vallefoglia invece ci sono dei centri commerciali così definiti dove le varie attività economiche che hanno un ingresso indipendente cioè affacciano direttamente o in una via pubblica o in un parcheggio e quindi hanno un ingresso completamente indipendente come qualsiasi tipo di attività ad esempio che sta all'interno di un centro storico ed è per questo che abbiamo fatto la richiesta al Ministero attraverso la Regione e voglio ringraziare ovviamente insieme a me anche la consigliera Michela Vitri il sindaco Chielli che si è attivato immediatamente e insieme all'assessore Cardoni abbiamo inviato questa lettera direttamente al Ministero noi ci auguriamo che ci sia una risposta in tempi rapidi per poter capire per poter dare questa informazione cioè per poter dire che i centri commerciali che in realtà si sviluppano all'aperto non vengono considerati come quelli al chiuso ma come qualsiasi attività è un momento molto difficile dove anche chi ha un'attività economica fa molto difficoltà ad andare avanti e se è possibile in qualche modo anche stare vicino a questo tipo di attività io penso che sarà sicuramente un bel segnale mi auguro che arrivi a breve questa risposta e in merito al tanto discusso tema delle biodigestore il Comune di Vallafoglia ha comunicato che in data 11 novembre è stato avviato con Marche Multiservizi un percorso di condivisione sulla costruzione di questo tipo di impianto noi siamo riusciti ad intervistare il Presidente di Marche Multiservizi Antonello Delle Noci che ha espresso il suo pensiero in merito Marche Multiservizi dopo un grande lavoro di studio ed analisi del territorio ha identificato in quello di Talacchio il migliore posizionamento e la migliore location per l'impianto di biodigestione un luogo quello di Talacchio idoneo da un punto di vista viario idoneo da un punto di vista urbanistico e anche la distanza dalle case elementi essenziali tutto nasce quindi da una presentazione una volontà che Marche Multiservizi ha depositato quindi per iniziare l'iter procedurale in provincia dandone comunicazione all'amministrazione comunale l'amministrazione stessa ha raccolto quindi la nostra lettera e ha raccolto anche la nostra disponibilità che parte da oggi quindi di informare tutta la cittadinanza oltre che l'amministrazione e quindi Marche Multiservizi sarà presente il prima possibile e per il tempo necessario per informare la cittadinanza dell'impianto un impianto utilissimo a un territorio da un punto di vista dell'economia circolare per la diminuzione dei rifiuti e anche per un risparmio per i cittadini sulla tariffa ma soprattutto un risparmio ambientale e dico che quello non ha sicuramente valore quindi inizia un percorso partecipativo che ci vedrà impegnati nel chiarire e informare tutti i cittadini e la volontà è anche quella di poter accompagnare tutti coloro che lo volessero anche a visitare questi impianti impianti che sono assolutamente senza odori impianti che non hanno nessun elemento se non un capannone come qualsiasi altro capannone in un territorio che già prevederebbe quel capannone ecco questo è il primo inizio del percorso partecipativo che ci accompagnerà speriamo alla realizzazione di un impianto quello che noi vorremmo fare l'impianto più bello d'Italia solamente per anche una curiosità nel caso in cui dovesse appunto partire il progetto i tempi tecnici per la costruzione intorno a quanto si aggirano la questione dei tempi è molto molto importante perché per far sì anche di ricevere i contributi che l'Unione Europea mette a disposizione e questo proprio perché la necessità degli impianti come ci ha voluto ricordare Legampiente pochi giorni fa in un titolo forse un po' forte in una frase il fiuti zero impianti mille ma il concetto che anche l'Unione Europea spinge in quella direzione viene per far sì che i contributi quasi ripaghino l'investimento e parliamo di un investimento di 35 milioni di euro dovremmo avere concluso tutte le attività entro la fine del 2022 quindi diciamo circa due anni di tempo per concludere tutto quello che sarebbe l'impianto il comune di Vallefoglia ha comunicato che si stanno avviando a conclusione i lavori di sistemazione delle ponti in legno sulla pista ciclopedonale di collegamento fra botteghe e pian del bruscolo i lavori sono stati eseguiti dalla dicta Tecnorocche e hanno comportato una spesa totale di 45 mila euro sostenute equamente da provincia comune di Vallefoglia e comune di Tavuglia per quanto riguarda direttamente Vallefoglia inoltre l'amministrazione comunale ha adottato la programmazione dei lavori servizi forniture per l'anno 2021 nel quale è previsto un intervento di asfaltatura delle strade comunali per un importo considerevole di 610 mila euro e questa settimana siamo stati anche alle Caffè 2 più 6 a Montecchia abbiamo parlato con Marco Di Benedetto uno dei titolari delle barre che è a conduzione familiare oltre a parlarci del momento che stanno vivendo le attività di ristorazione come appunto bar e ristoranti e l'obbligo di chiusura alle 18 Marco c'è anche parlato della sua prossima attività infatti insieme ad altri due soci ha preso in gestione il locale ex Divina ed è prossimo all'inaugurazione diciamo abbiamo cercato di reinventarci e proponiamo gli aperitivi al mattino soprattutto sabato mattina facciamo delle colazioni un po' strane dai cappelletti in brodo alla carbonara alla piadina con la porchetta ce la mettiamo tutta per superare questo periodo duro stringiamo i denti e ce la metteremo tutta per superarlo speriamo in tempi migliori hai parlato a tuo punto di colazioni molto molto strane anche un po' come sono state accolte dai clienti ma con molto entusiasmo la gente si diverte esce prima sa che un piatto di cappelletti alle 9 e mezza del mattino non si non si trova in tanti posti e quindi è una cosa un po' divertente un po' fuori dalle righe ed è ed è piaciuta anche perché in un momento come questo anche fare divertire la gente è una cosa molto molto importante parliamo anche di un'altra situazione perché so che hai preso ancora non è pronto hai preso in gestione Lex e Divina tu assieme ad altri soci doveva essere probabilmente anche un po' il mese dell'inaugurazione poi c'è stato di nuovo questo ritorno a Zona Zala ricordiamo per la regione Marche parlaci un po' di questa situazione e del locale allora abbiamo preso abbiamo rilevato quest'estate Lex Divina e la nostra idea è quella di fare un gastropub e vista questa situazione abbiamo deciso di fare i lavori con più calma per farci trovare pronti al meglio quando tutto sarà finito per riportare un po' un po' di vivacità anche qui a Montecchio qui a Vallefoglia si parla quindi presumo adesso di 2021 per l'inaugurazione ufficiale o magari tempo al tempo anche vedere come la situazione progredirà nei prossimi settimane nei prossimi mesi il target a cui principalmente si riferisce questo nuovo locale è un pub un gastropub aperto a un pubblico ampio dalla famiglia alla compagnia al compleanno alla festa di laurea vogliamo ovviamente vogliamo puntare su un pubblico giovane soprattutto per il weekend e riportare un po' di vivacità anche qua nella nostra zona con musica dal vivo DJ e poi tutti i dettagli non posso dirli perché ci stiamo lavorando mano a mano penso che apriremo non so dirlo adesso aspettiamo i nuovi provvedimenti ma sicuramente gennaio dicembre non lo so non so dirlo nemmeno io intanto ci stiamo lavorando sodo e dopo la segnalazione che avevamo fatto poco più di un mese fa sempre qua sulle Vallefoglia magazine per quanto riguarda la strada che porta la celetta country house Roberto Arduini uno dei soci ha tenuto a ringraziarci visto che sono finalmente iniziati i lavori per quanto riguarda la parte di strada che è del comune di Vallefoglia per quanto riguarda invece la parte di strada che è delle comune di Urbino anche qui comunque sono già stati progettati i lavori e Roberto Arduini ha parlato di tutte queste novità dopo la segnalazione che abbiamo fatto un mese fa devo con tanta gioia comunicare che entrambi i comuni si sono adoperati ci siamo messi in contatto con i tecnici del comune e in particolare il comune di Vallefoglia ha già ripristinato la parte della strada di sua competenza sistemando le buche che c'erano sul manto stradale e ha in pratica messo a progetto l'area asfaltatura di alcune parti che non possono essere ripristinate perché l'asfalto era completamente degradato e rovinato per quanto riguarda la parte di Urbino il sindaco di Urbino ci ha comunicato che hanno messo a base l'area asfaltatura della loro parte che è completamente distrutta e quindi non riparabile ci avrebbe stato solo uno spreco di soldi pubblico ripararla e quindi siamo molto contenti di comunicare questo primo intervento che già ci permette anche psicologicamente di andare avanti con un po' più di fiducia verso il futuro relativamente a ciò che sta accadendo in questo momento noi ci stiamo adeguati a quelle che sono le normative quindi abbiamo ridotto il numero di posti siamo aperti il fine settimana sabato e domenica a pranzo e durante il weekend sono aperti praticamente aperta la struttura ricettiva per gli appartamenti e abbiamo adesso promosso sui social dei weekend dove viene offerto un pacchetto di alloggio e alloggio cena e colazione queste sono le novità a breve nel medio periodo stiamo adesso stiamo adesso attivando un nuovo portale basato sul turismo esperienziale che comincerà a promuovere ormai da gennaio perché in questo momento l'abbiamo stoppato dei weekend esperienziali da offrire ai nostri clienti saranno ad esempio basati sulla ricerca al tartufo quindi andremo insieme nelle tartufaie a trovare il tartufo con degli esperti e poi cucineremo insieme ai nostri cuochi il tartufo che abbiamo trovato insieme eventi tipo questi per esempio possono essere anche relativi alla cucina impariamo a fare la pasta in casa le tagliatelle in casa o le crostate cose semplici della nostra tradizione queste sono le novità principali perché riguarda la parte ricettiva e ristorazione dal punto di vista della promozione artistica del territorio siamo in contatto con un importante artista italiano col quale nel primo trimestre dell'anno faremo organizzeremo un evento per sviluppare delle opere di ceramica materica che faremo poi nel nostro laboratorio in struttura ringrazio TV Rossini per questa opportunità che ci dà e per la possibilità che dà a noi piccoli imprenditori di poterci in qualche modo promuovere e anche in qualche modo aiutarci a risolvere questi piccoli problemi funzionali che abbiamo grazie e adesso concludiamo parlando di sport nelle campionate di serie 2 di volley femminile nella nona giornata la Megabox Vallefoglia ha trionfato in trasferta alle tie-break per 3-7-2 contro la CDA Talmassons una vittoria molto importante per la squadra nata da coach Fabio Bonafede che permette alla Megabox di conquistare due punti e chiudere le girone d'andata della prima fase delle girone est al secondo posto con 16 punti in classifica a sole tre lunghezze dalla capolista Cutrofiano ora si torna subito in campo con la Megabox che ospiterà Soverato alle pala di Onigi di Montecchio per la prima partita delle girone di ritorno e siamo giunti alla conclusione di questa nuova edizione delle Vallefoglia Magazine io come al solito vi ringrazio per essere stati in nostra compagnia qua su Rossini TV canale 633 del digitale Terrestre come di consueto vi rinnovo l'appuntamento venerdì prossimo sempre qua alle ore 19 e vi auguro una buona serata grazie a tutti